per esportare il dgf della macchina ovviamente il giornale elettronico si mette la memory stick nella porta usb del registratore di cassa si porta la chiave in assetto set si digita il codice 462 si preme x si aspetta che la macchina sia pronta si inserisce la data iniziale 01 01 2020 per esempio la data finale 31 01 2020 veramente tutto il mese di gennaio del 2020 si conferma con il tasto x si seleziona con il tasto x memoria di dettaglio con il tasto subnotale si passa da xml a txt si conferma con il tasto subnotale col tasto x si conferma e la macchina inizia ad esportare i dati dipende dalla quantità dei dati può richiedere o poco tempo o anche mezz'ora o anche più tempo non va interrotta l'operazione per nessun motivo per cui va aspettato l'esecuzione quando appare il messaggio scrittura eseguita si rimuove la memory stick con il tasto chiave si porta in assetto reg e si è terminato